un cordiale saluto amici amiche di tv 6 bentornati all'appuntamento col meteo per questo mercoledì 21 giugno è il giorno del sostizio d'estate inizia ufficialmente la stagione estiva anche sul lato astronomico per pura coincidenza sarà un esordio davvero molto caldo grazie all'alta pressione sub tropicale che continuerà a sovrastare tutta la nostra penisola arriveranno anche vaste nubi di polvere sahariana direttamente dal deserto del sahara nubi che andranno a sporcare i nostri cieli li renderanno biancastri giallastri insomma verrà crearsi una tipica atmosfera sub tropicale in abruzzo una giornata da piena estate con cieli sereni o velati per effetto di questa polvere che arriverà direttamente dal deserto dai quadranti meridionali avremo un aumento ulteriore delle temperature con massime fino a 33 localmente anche 35 gradi nei settori interni insomma una giornata davvero molto calda a tratti anche a fossa sulle coste un'atmosfera sub tropicale con questo concluso ci vediamo nel prossimo appuntamento